ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video della federazione italiana di scioghe allora in questo video mi piacerebbe parlare per quanto riguarda la quarta edizione di mio libro shogi su kaki giapponesi come potete vedere lì c'è la copertina di mio libro questa edizione e ultima edizione ha un totale di 236 pagine molto completa a differenza delle altre edizioni precedente già quella terza aveva un totale di 174 pagine questa qua ha molto di più quindi vediamo un po' nel video come potete vedere sono delle immagini a colore un po' di tutto, stile scrittura, esercizi, castelli, eccetera eccetera le immagini sono molto buone quindi è molto completo a differenza delle edizioni precedenti mi piacerebbe ringraziare a tutti coloro che ci sono stati dall'inizio che in qualsiasi senso mi hanno aiutato e le persone o le nuove conoscenze che mi hanno aiutato anche in qualsiasi maniera grazie mille di tutto cuore mi piacerebbe chiarire anche che nel passato ci sono stati diciamo delle persone che hanno avuto invidia per il fatto che ho pubblicato il libro di sciocchi mi dispiace ma io a me non mi interessa la vostra invidia e non la voglio quindi potete tenerla anche queste persone diciamo hanno parlato di troppo però vabbè l'ignoranza è grande cari amici l'ignoranza è grande e fa parlare sempre spiacevolemente è così fa niente io vado avanti vorrei chiarire anche che è vero nel passato magari qualcuno ha potuto leggere o vedere in qualche piccolo articolo due o tre righe come se per dirlo così o in qualche sito o magari una rivista che spiegano lo scioghi ma sono delle cose molto basiche non dico che questo sia una cosa negativa anzi complementi a coloro che hanno avuto il coraggio di cercare di spiegare il meglio possibile lo scioghi davvero complementi però non è per essere un pallone gonfiato come altre persone che ci sono in giro ma una cosa che mi piace dire o meglio dire mi piace chiarire perché sono una persona molto diretta in questo senso che piaccia o non piaccia alla gente sono il primo e unico che è riuscito a pubblicare un libro di scioghi in italiano io non lo faccio con l'intenzione di come ho detto di essere un pallone gonfiato ma lo faccio perché mi piacerebbe che l'Italia si sviluppi un po' di più in questo senso aiutare a coloro che vogliono e hanno l'intenzione di imparare lo scioghi veramente quindi c'è un libro anche se magari qualcuno dice che no però c'è la verità o come diceva c'è un'espressione che dice il sole non si può nascondere dietro un dito quindi che c'è un libro in italiano non potete negare che è stato pubblicato quindi credo che questo sia tutto ricordate di iscriversi nel nostro canale per essere aggiornati per quanto riguarda i negozi librerie dove sarà messo in vendita il libro in qualche giorno saranno disponibili diverse librerie italiane il prezzo di copertina sarà di 30 euro quindi potete acquistarlo quel prezzo lì ok grazie mille ancora per tutto ringrazio tutti come sempre e ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti